Il corso Sito Vivo mi è piaciuto soprattutto per come è stato organizzato a livello di durata del corso, di argomenti trattati e anche del relatore, l'ingegnere Pagano, che ha saputo soddisfare quelle che erano un po' le mie pretese da questo percorso. L'argomento che mi è piaciuto di più è stato sicuramente il poter convalidare quante conversioni provenienti da Facebook o da Google sono effettivamente tali e quante no, tramite appunto la suite dell'ingegnere Pagano, uno strumento che ho intenzione di utilizzare nella mia attività lavorativa. Della suite Sito Vivo penso che sarà sicuramente lo strumento sulla quale io pianificherò le mie prossime campagne, i miei prossimi lavori, perché penso possa darmi la capacità di affermarmi e anche di avere quel qualcosa in più che i concorrenti non possono proporre. Grazie a tutti.